A livello nazionale manca circa il 30-40% dei guardaspiaggia necessari per garantire la sicurezza dei bagnanti. Questa la stima del sindacato balneari di Confcommercio, una problematica che non sembra riguardare la nostra regione. A confermarlo Cristian Di Santo, presidente di Lifeguard, la compagnia del mare, che in Abruzzo è operativa con 300 bagnini e con richieste anche in Lazio e nei resort. Quest'anno siamo riusciti a coprire tutte le postazioni, quindi tutti i litorali di cui hai appena parlato, in maniera veramente splendida, con uno staff e un gruppo di ragazzi affiatati, una grandissima squadra. Sicuramente sarà dovuta a tutta la formazione che abbiamo fatto negli anni e anche d'inverno nel comunque formare e reperire personale. Per quanto riguarda in Italia sicuramente si è registrata una flessione, ma una flessione generale, che non riguarda solo i bagnini, ma riguarda tutto il settore lavorativo stagionale. Ma dirò di più, non è una flessione nazionale, ma una flessione europea addirittura. La flessione registrata può essere attribuita al Covid e alla conseguente chiusura dei centri natatori in inverno che hanno rallentato le attività. È una delle motivazioni principali quella della mancanza dei bagnini in Italia, proprio perché durante il Covid molte strutture, molte piscine sono state chiuse e quindi abbiamo meno ragazzi brevettati a livello nazionale e quindi probabilmente abbiamo meno ragazzi disponibili per lavorare. Possiamo sfatare il mito del reddito di cittadinanza? Assolutamente sì, perché i ragazzi non prendono il reddito di cittadinanza, non possono prendere il reddito di cittadinanza. Sono dei ragazzi studenti, quindi è un settore che va escluso il reddito di cittadinanza. Sono tutti discorsi che non centrano nulla con il personale, almeno per quanto riguarda il salvataggio. Forse potrebbe essere diverso quando parliamo di camerieri, cuochi o chef o altre persone. Si sente di raccomandare chi usufruisce della spiaggia di stare attenti e di ascoltare le indicazioni che danno i propri bagnini. In questi giorni, tra domani e dopodomani, si avrà una forte perturbazione e diciamo ai bagnati di stare attenti. Quando le condizioni meteomarie non sono favorelle, non entrate in acqua, mettete a rischio la vostra vita e soprattutto anche quello dei ragazzi, che poi alla fine sono i nostri figli. Al mare si va per divertirsi senza rischiare la propria vita.